In questa seconda lezione andremo ad affrontare uno degli argomenti principali per quanto riguarda il corso. Cercheremo di capire come è fatto e come funziona internet, cercando di partire dai principi che regolano internet, regolano appunto la rete e cercando anche di capire come questa funziona attraverso la sua struttura e come i vari elaboratori parlano fra di loro. Cos'è internet? Cos'è una rete? Una rete è un insieme di elaboratori che fra di loro, di terminali che fra di loro si scambiano informazioni e comunicazioni. Ovviamente davanti ad ognuno di questi terminali c'è una persona ma può anche non esserci il cosiddetto internet delle cose, però questo insieme di elaboratori, di terminali si scambia delle comunicazioni basandosi ovviamente sul linguaggio e sul sistema di comunicazione degli elaboratori stessi. Cerchiamo quindi di capire come ragionano e quindi come parlano fra di loro gli elaboratori, cercando di capire quali sono gli elementi fondamentali che fanno sì che appunto un terminale, un computer, uno smartphone, un punto della rete riesca a comunicare con un altro punto della rete. Partiamo appunto dal capire qual è l'elemento di base, l'elemento principale. Gli elaboratori sono costituiti principalmente, dal punto di vista proprio basilare, da un insieme di circuiti elettronici, i cosiddetti chip, che conoscono solo due possibili stati. Acceso, ovvero dal circuito elettronico passa corrente, oppure spento, quindi non passa corrente. Questi due stati sono stati codificati con appunto uno specifico formato che è quello del bit, che viene codificato appunto in una cifra binaria che è 0 e 1, quindi bit è binary digit e serve appunto per identificare lo stato di acceso o spento. 8 bit formano un byte. Dall'elemento fondamentale che è il bit però serve un sistema per poi arrivare a un linguaggio che sia più simile al nostro, quindi c'è una corrispondenza poi tra quello che sono i nostri caratteri, quelli che conosciamo, e una sequenza di bit. Una sequenza di bit che va ad interpretare appunto e a codificare il nostro codice con cui noi comunichiamo, quindi in un qualche modo la traduzione da quello che è il linguaggio e il sistema di ragionamento del laboratore con quello che è invece il nostro sistema di comunicazione. Per cui un insieme di bit, e per questo esistono i codici, all'inizio veniva utilizzato il codice ASCII che era formato da sequenze di 8 bit, adesso più comunemente si utilizza il codice Unicode, che è una sequenza di 16 bit, questo perché alla fine c'è più possibilità appunto di codifica e quindi di transcodifica fra il carattere che andiamo a identificare e i bit che rappresentano appunto la sequenza di bit che rappresenta quel carattere. Abbiamo esempi di quale sia questa sequenza e carattere che viene rappresentato. Ovviamente una sequenza di bit rappresenta un carattere, una sequenza di carattere, quindi una sequenza di bit legati l'uno all'altro rappresenta una parola e ancora di più queste sequenze che sono messe appunto di seguito di parole possono rappresentare una frase e così via. Ovviamente ognuno di quello che è rappresentato dal nostro monitor per esempio deve essere codificato, quindi è codificato anche lo spazio, nell'esempio che abbiamo la parola ciao viene codificata appunto con la prima lettera che è una lettera maiuscola e quindi una C maiuscola con quel tipo di sequenza e poi le altre così via. Dicevamo appunto anche lo spazio ha una codifica ben precisa e tutto quello che viene poi visto sul nostro monitor. Ovviamente vengono codificate anche le immagini che vengono viste sul nostro monitor per cui abbiamo una sequenza di bit che rappresenta anche le immagini. Se si vuole dal punto di vista dell'immaginazione questo è anche più semplice, se noi pensiamo a una tavola di lampadine accese e spente che formano la nostra immagine ovviamente più lampadine ci sono e più la nostra immagine è definita. Se l'immagine è in bianco è rappresentata da un bit acceso, se è in nero è rappresentata da un bit spento. Ovviamente a questo bisogna aggiungere anche la codifica dei colori quindi per ogni lampadina noi avremo più bit che vanno a rappresentare anche i colori. Abbiamo visto come ragiona un elaboratore, un terminale, un nodo di questa rete, di queste reti. Andiamo adesso invece a capire poi come tutto questo diventa internet. Andiamo a vedere quali sono poi che cos'è internet e cosa non è soprattutto internet. Prima di tutto internet è un insieme di quello che abbiamo visto inizialmente, cioè un insieme di reti che collegano degli elaboratori, collegano dei terminali ma sono a loro volta interconnessi fra di loro. Quindi tutto questo è distribuito geograficamente in tutto il mondo, ci sono appunto delle reti che fra di loro parlano e fanno parlare gli elaboratori e poi fra di loro appunto si scambiano i dati per quanto riguarda appunto la comunicazione fra terminali e poi di conseguenza anche fra persone. Ci sono ovviamente delle regole che permettono che internet funzioni ma sono delle regole tecniche che sono condivise da tutte e sono rispettate da tutti perché tutto funzioni. Quindi tutto è regolato prima di tutto e fondamentalmente da delle regole tecniche. Cosa non è internet? Sicuramente non è governata da un gruppo, da un ente, da un'azienda, non è un qualcosa che è definita dal punto di vista o almeno tenta di non esserlo dal punto di vista economico. Quindi non c'è un capo di internet, un qualcosa che governi direttamente internet. E proprio in questo concetto, anche per la sua storia, per come è nata internet, non è gestita in modo centralizzato ma anche dal punto di vista tecnico ogni singola rete ha la propria gestione nel rispetto appunto delle regole tecniche che fanno sì che tutto questo funzioni, però le politiche di gestione delle varie reti possono essere diverse l'una dall'altra e anche se una di queste reti sparisce non blocca il flusso delle comunicazioni fra le altre reti. Quindi i dati sono scambiati fra i vari terminali anche se dei singoli pezzi si bloccano e cadono. Ma soprattutto nella definizione di internet, internet non è sinonimo di World Wide Web. Quindi parlare di internet è qualcosa di più esteso, di più complesso che non parlare del web. Il web è una delle applicazioni che vengono utilizzate su internet. Abbiamo visto come ragionano gli elaboratori, i terminali, ma una cosa importante è anche capire poi come scambiano le proprie informazioni. Quindi quali regole seguono proprio per scambiarsi queste informazioni. Perché come nel comportamento umano è necessario avere delle regole comuni che definiscano appunto l'interscambio di messaggi e facciano sì che la comunicazione avvenga in modo corretto senza avere problemi. Per cui esistono dei protocolli appunto di comunicazione di dati che appunto hanno delle specifiche ben definite. Internet funziona grazie a un protocollo di comunicazione ben definito che ha il compito appunto di gestire l'interscambio di dati fra macchine che fanno parte delle reti che compongono internet. Il TCP che è il protocollo appunto che ha il compito al momento in cui partono i dati di suddividere il dato quindi il file in tanti piccoli pacchetti e applica al pacchetto l'indirizzo che è l'indirizzo di destinazione del pacchetto stesso. E al momento del ricevimento del pacchetto questo dato viene poi ricostruito per ricostruire appunto il dato in modo corretto. L'altro protocollo che invece serve a far sì che il pacchetto arrivi a giusta destinazione è l'IP. Quindi questo insieme di protocolli fa sì che appunto internet funzioni così come lo conosciamo. Quindi da un lato appunto l'IP per l'instradamento e dall'altro il TCP per la gestione, proprio la creazione del pacchetto che poi viene instradato sulla rete. Ovviamente la gestione delle reti di dati sono un'attività più complessa di quella appunto che abbiamo visto col TCP IP. Quindi c'è bisogno diciamo di una gestione che riguardi più aspetti perché questo tipo di comunicazione come abbiamo visto all'inizio va sempre riportato all'elemento base cioè quello fisico dell'acceso spento. Quindi ricordiamoci che al di là di tutte le regole poi queste regole alla fine vengono concretizzate in questi due stati fisici che sono l'acceso spento. Quindi non è un solo protocollo ma ci sono più protocolli che entrano in atto per la comunicazione che partono dal livello più basso, dal livello fisico per poi arrivare ad altri livelli. Proprio per la definizione di questo processo e di questi protocolli si è arrivati a una soluzione che si chiama pile protocollari. Cioè ci sono vari livelli di protocolli che riguardano aspetti completamente diversi ma che servono appunto a far sì che i dati arrivino a destinazione. Le pile protocollari quindi servono a definire i vari livelli di interazione del dato per arrivare appunto a destinazione. Quindi tutto quello che entra in gioco quando si deve far arrivare un dato a destinazione. Per fare un paragone rispetto all'esempio della lettera di quando per esempio si spedisce una lettera i vari livelli possono essere il tipo di trasporto che si usa per mandare la lettera. Quindi il fatto che si usi il furgoncino delle poste come invece lo scooter del postino oppure che il tipo di busta che si utilizza per trasportare la lettera può essere una busta di carta o una busta più grande oppure tutta una serie di livelli appunto che fanno sì che il dato venga inviato. Importante così come lo è nel paragone con la lettera il fatto che ogni livello vede solo il livello sottostante quindi in realtà quando noi andiamo a imbucare la lettera sappiamo che l'abbiamo messa nella nostra buca delle lettere ma non sappiamo quello che poi succede dopo. Così come il primo diciamo il primo postino che prende la nostra lettera dalla buca delle lettere non sa niente rispetto a quello che sarà poi la consegna finale per esempio della lettera stessa al destinatario. Quindi ogni livello si preoccupa solo del passo successivo cioè di quello che deve essere fatto al livello successivo. In specifico la pila internet è appunto la pila di protocolli che definisce appunto il livello di comunicazione per far sì che un pacchetto di internet arrivi a destinazione. È molto simile ad una pila diciamo che per anni è stata utilizzata nell'ambiente delle comunicazioni dei dati e però la semplifica riducendo i livelli a cinque livelli. E questi livelli sono appunto molto molto semplici e chiari per capire appunto come funzioni il trasporto del dato. Nello specifico la pila internet come possiamo vedere anche dall'immagine mantiene appunto alcune parti del vecchio modello ma semplificandole. In particolare possiamo vedere per quanto riguarda appunto la pila internet che si parte dal livello fisico cioè quello di collegamento fisico, il cavo, che tipo di cavo si utilizza per poi passare al tipo di trasmissione di segnale cioè come il segnale poi è trasmesso su questo collegamento fisico arrivando fino fino alle informazioni che sono quelle di cui parlavamo prima cioè i protocolli IP per quanto riguarda il livello di rete e TCP per esempio per quanto riguarda il livello di trasporto. Soprattutto questo poi c'è il livello dell'applicazione cioè quella parte che gestisce la diciamo il trattamento del dato sia a livello nostro cioè l'interfaccia verso di noi, l'interfaccia del terminale per quanto riguarda noi che utilizziamo appunto il terminale e dall'altra parte il nostro destinatario che riceverà il nostro dato. Vediamo velocemente i vari livelli della pila della pila protocollare per quanto riguarda appunto internet. Come dicevamo il livello fisico definisce tutto quello che è proprio di collegamento fisico che tipo di diciamo di collegamento c'è e questo tipo di livello è proprio legato al primo diciamo al primo pezzo del nostro collegamento. Se il nostro computer è collegato con un cavo in rame quello sarà il livello fisico fra quel computer e l'apparato che è subito dopo. Così come il collegamento potrebbe essere wireless oppure in fibra ottica eccetera. Il livello subito successivo si occupa di scambiare informazioni rispetto a quello che è appunto l'utilizzo del livello fisico. Quindi si occupa di scambiare informazioni relative all'errore, alla perdita di dati, a tutto quello che è appunto il passaggio dei dati su quella determinata tipologia di collegamento fisico. Il livello di rete invece è quello appunto anche che caratterizza la rete internet ovvero si occupa dell'istradamento del pacchetto. Dicevamo che internet è una rete a pacchetti quindi il dato viene diviso in tanti piccoli pacchetti che vengono poi instradati sui vari nodi della rete per poi arrivare a destinazione. La cosa diciamo diversa dagli altri è che internet usa l'internet protocol per fare questo tipo di attività. Cioè internet è definita proprio dall'internet protocol e questo livello praticamente permette al pacchetto appunto di poter seguire la strada migliore e arrivare appunto a destinazione. Nello specifico il protocollo IP è appunto come dicevamo il protocollo che serve per la consegna dei pacchetti e ha delle caratteristiche ben specifiche. È privo di connessione quindi ogni pacchetto è indipendente dagli altri quindi ogni pacchetto viene creato, parte, va sulla rete, arriva a destinazione ma in realtà a livello di protocollo IP non si interessa di cosa fanno gli altri pacchetti. Ogni pacchetto segue la sua strada, quello che sa è che deve arrivare a destinazione ma non gli interessa null'altro. Una caratteristica sempre dell'IP è che la consegna non è garantita non interessa al protocollo IP che il pacchetto in un qualche modo non arrivi a destinazione. Si impegna il protocollo IP a far arrivare il pacchetto a destinazione nel modo più veloce possibile questo sicuramente sì, quindi scegliendo la strada migliore è appunto tentando di consegnare il pacchetto laddove ovviamente possibile quindi se c'è qualche interruzione sulla rete ovviamente cerca un'altra strada per poter consegnare il pacchetto. La rete in quanto tale è un insieme di instradatori di pacchetti quindi nella rete ci sono una serie di nodi che servono per far capire al pacchetto quale è la strada migliore per arrivare a destinazione e quindi far sì che il nostro pacchetto appunto possa arrivare il più lontano possibile seguendo la strada migliore. Questi instradatori sono detti router quindi nella rete esistono questi nodi appunto fatti da attrezzature che si chiamano router ogni router ha lo scopo principale di ricevere un pacchetto e farlo uscire verso la strada migliore per arrivare a destinazione quindi c'è l'obiettivo del router è proprio quello di fargli seguire la strada migliore. Ci sono poi varie tecnologie che permettono appunto di instradare il pacchetto nel modo migliore e farlo arrivare a destinazione. Il livello successivo è quello di trasporto quello che dicevamo il più comunemente è definito dal TCP questo livello si occupa di quello che non si occupa il livello IP cioè di gestire il controllo dell'errore il flusso, la gestione delle sequenze cioè si occupa in un qualche modo di soprattutto per quanto riguarda il TCP di gestire che il pacchetto poi arrivato a destinazione possa essere ricostruito nel modo migliore quindi che tutti i pacchetti possano essere ricostruiti messi insieme andare a generare di nuovo il nostro dato. Il TCP appunto è l'acronimo di Transmission Control Protocol e fa sì che appunto la rete IP quindi la rete che trasmette i vari pacchetti possa diventare affidabile quindi in un qualche modo che il nostro dato che parte viene diviso in tanti pacchetti alla fine arrivi a destinazione e si possa ricreare alla destinazione in modo affidabile quindi che in un qualche modo ci sia una coerenza appunto fra il dato che parte e il dato che arriva questo dato diciamo se qualche pacchetto si perde o se succede qualcosa il compito del TCP è ritornare alla fonte e richiedere il pacchetto mancante o comunque far sì che il dato appunto arrivi nel modo migliore con appunto l'affidabilità dovuta per ricostruire il dato così come deve essere. L'altro protocollo più utilizzato per quanto riguarda il livello di trasporto è il protocollo UDP è indicato per quando è necessario trasferire i dati nel modo più veloce possibile perché il TCP fa un controllo come dicevamo sulla sequenza dei pacchetti quindi aspetta che tutti i pacchetti arrivino a destinazione per poi ricostruire il dato come deve essere ricostruito nel modo migliore. Con il protocollo UDP invece questa sequenza non è gestita ma viene gestita in base all'arrivo del pacchetto stesso. L'UDP per esempio è utilizzato quando si fa lo streaming di dati multimediali ovvero quando è più importante la velocità nella consegna del pacchetto che non il fatto che poi tutti i pacchetti arrivino a destinazione. Quindi se il pacchetto manca se il pacchetto si è perso durante la strada dal sorgente alla destinazione non viene richiesto al mettente ma l'applicazione non tratta quel pacchetto e ricostruisce laddove può. Giusto per capire come esempio quando in una videoconferenza mancano dei pixel sull'immagine della videoconferenza. Quel pacchetto è andato perso ma non è importante perché la gran parte della videoconferenza si vede quindi comunque il nostro dato è arrivato anche se manca qualche pezzetto. Il livello applicazione è il livello finale della pila dei protocolli internet è la parte più alta del modello appunto della pila protocollare di internet ed è rappresenta appunto quello che è poi l'applicazione che gestisce i dati cioè quel determinato tipo diciamo quella tipologia di scambio di informazioni che fa sì per esempio che noi vediamo una pagina web c'è un protocollo che gestisce appunto lo scambio di dati fra il server che detiene il dato e per esempio il nostro client che va a richiedere quel dato quel livello di applicazione non sa quello che c'è sotto quindi vede soltanto il livello di trasporto non ha conoscenza di tutto il resto ma è poi alla fine quello che noi conosciamo meglio perché rappresenta l'applicativo che stiamo utilizzando utilizzando internet quindi il web per esempio rientra in questa parte di internet ma non è il solo come dicevamo ci sono le mail c'è il file transfer ci sono i sistemi di streaming tante altre tipologie appunto di applicazioni utilizzate su internet vediamo nello specifico giusto per andare a fare un punto su quello che abbiamo detto cosa succede ad un dato quando viene mandato sulla rete quindi il nostro dato in partenza e poi mentre viaggia per arrivare alla sua destinazione il nostro dato per esempio in questo esempio è un'immagine e viene gestito a livello applicazione da un applicativo che potrebbe essere un server web che fornisce quell'immagine a livello di trasporto cosa si fa? si prende quel dato e lo sudivide in tanti pacchetti questa è un'operazione che fa il nostro computer il nostro computer o in questo caso per esempio un server web quindi un computer che gestisce un server web al suo interno prende quell'immagine e la divide in tanti pacchetti e quel pacchetto ognuno di quei pacchetti viene mandato sulla rete che è un insieme appunto poi di collegamenti quindi a livello di rete noi abbiamo il pacchetto che va su una rete che è fatta appunto da nodi che sono definiti da degli standard da dei protocolli a livello di collegamento e a livello fisico quindi abbiamo tutti i vari i cinque livelli di cui abbiamo parlato l'applicazione il trasporto che fa il pacchetto il livello rete che lo manda sulla rete che è costituita appunto da collegamenti che sono fatti poi in modo diverso fibra ottica rame, wireless eccetera come dicevamo per internet è fondamentale il concetto di pacchetto il pacchetto è diciamo la creazione del pacchetto è l'elemento fondamentale che caratterizza appunto internet e qualsiasi tipo di dato che viene trasmesso in internet alla fine non è altro che un pacchetto un pacchetto che è un po' come la nostra appunto busta delle lettere dove ci sono una serie di informazioni nell'intestazione cioè in una parte dei dati che formano questo pacchetto dove ci sono appunto le informazioni che servono per far arrivare a destinazione il dato e poi dentro al pacchetto ci sono i dati stessi che poi verranno come vedevamo ricostruiti quando il pacchetto arriverà a destinazione quindi è importante nel pacchetto la parte di intestazione e la parte invece poi di dati internet come dicevamo è una grande rete e è una rete a pacchetti quindi il pacchetto in questa rete parte dal primo elaboratore come vediamo nell'esempio poi per esempio incontra il primo router e prende una strada perché la considera la più veloce in quel momento magari quel router o quel collegamento non funziona e quindi il pacchetto successivo sceglierà un'altra strada poi tutti questi pacchetti scelgono appunto in quel momento preciso cioè a tempo di passaggio qual è la strada migliore e in base appunto alla strada migliore poi arrivano a destinazione e a destinazione poi verranno ricostruiti per creare il il dato stesso vediamo sempre un esempio di quello che stavamo vedendo cioè come funziona lo scambio dei pacchetti il dato il nostro quadro la nostra immagine parte dal dal mittente quindi come dicevamo il nostro dato per esempio è diviso in due pacchetti il pacchetto 1 e il pacchetto 2 e questi due pacchetti vanno sulla rete arrivano a destinazione e la parte 1 e 2 viene ricreata poi per far sì che il nostro dato lo stesso dato di partenza sia ricostruito nello stesso modo all'arrivo al destinatario quindi l'immagine come la vedete dal mittente poi viene ricostruita nello stesso modo a destinazione sempre nella per capire il concetto di pacchetto come vedete il nostro dato la nostra immagine all'inizio è stata è un insieme di due pacchetti che vengono scomposti è creato il primo pacchetto il primo pacchetto segue una sua strada sulla rete arriva a destinazione ma a destinazione un solo pacchetto da un'immagine che non è quella nostra di partenza è soltanto una parte a questo punto parte anche il secondo pacchetto il secondo pacchetto segue per esempio come nell'esempio un'altra strada sulla rete arriva a destinazione a questo punto il TCP prende i due pacchetti e li porta all'applicazione nel senso li dà a livello applicazione che ricostruisce il dato e ricostruisce la nostra immagine così come era partita dal mittente in questa lezione abbiamo visto che cos'è una rete di calcolatori come i calcolatori ragionano e quindi poi come comunicano fra di loro come comunicano i vari terminali da computer smartphone ed altro abbiamo visto cos'è internet un insieme di reti che viene gestito in tutto il mondo in modo diverso ma con le stesse regole tecniche queste regole sono definite con degli standard con dei protocolli che fanno parte di una pila protocollare con vari livelli che partono dal livello fisico fino a arrivare al livello applicativo abbiamo visto anche qual è la strada di un pacchetto dal suo omittente da quando viene costruito fino ad arrivare a destinazione come i calcoli qui partono